Siamo qui con Laura Duranti, una psicologa. Perché non vi è in Italia una cultura di prevenzione nella scuola e come si potrebbe risolvere la situazione? Beh, allora, in Italia non vi è una cultura di prevenzione all'interno del mondo della scuola perché mancano una serie di, come dire, manca tutto il substrato che garantirebbe questo genere di servizio alla scuola. Ad esempio, pensiamo alla questione dei fondi che la scuola non ha a disposizione per superire degli interventi di prevenzione mirati all'interno delle sue lezioni. Pensiamo ad esempio a una questione culturale, nel senso che non vi è proprio una cultura di comunicazione tra i vari attori che ruotano intorno al mondo della scuola, da studenti, genitori, insegnanti, insomma, non vi è anche una difficoltà organizzativa di inserire questo genere di programmi all'interno del mondo scolastico perché significa comunque richiedere uno sforzo agli insegnanti per adattare i loro programmi. Con i Kiwi tutto questo potrebbe essere risolto, nel senso che grazie ai Kiwi tutta questa serie di problemi potrebbero essere messi da parte e sono sognati attraverso un approccio più flessibile, più di curva di qualità, più economico e più di supporto a tutti e tre gli attori della scuola per far sì che, come ponte per far rischiare degli skills utili per affrontare le problematiche sociali. Grazie mille. Grazie a voi.